È molto grosso, veramente. È cominciato l'ora di pranzo e poi si è sviluppato per tutto il resto del pomeriggio. Ma io sono ritornata verso le tre dall'ufficio e c'era un fungo nero che bucava lì dietro al casale degli strozzi e poi le fiamme, insomma, alte. Una brutta, brutta cosa.